Una breve raccomandazione, nei prossimi video commenterò dei filmati che ho preso in internet su YouTube. Si tratta di questi link qua. La maggior parte di loro sono in inglese. Nei miei video non sentirete l'audio perché ho tolto l'audio originale dei video e sono io che commento e ci parlo sopra. La mia raccomandazione è di andare su YouTube, aprire i video originali con questi link, anche questi altri che seguono, questi sono gli ultimi link, e ascoltare questi video in inglese. È anche un buon esercizio per imparare meglio la lingua.